Siamo oggi al Centro Cunversi in un interessante incontro sulla riabilitazione robotizzata. Siamo con il dottor Giovanni Taveggio, direttore sanitario abilita ospedale di Sanrico. Quando si ricorre all'utilizzo di robot proprio per la riabilitazione? La terapia robotica è una terapia che è indicata, è fortemente indicata e suggerita da linee guida internazionali su pazienti affetti da disabilità neurologica. E quindi pazienti che sono stati colpiti da un ictus, da un trauma cranico, sono in stato vegetativo, da pazienti che risentono di disabilità per malattie neurologiche. Quali sono i principali benefici che si possono avere da questi trattamenti? Il beneficio è un beneficio sull'intensività del trattamento perché questa è una terapia che aggiunge valore alla terapia tradizionale e quindi può essere considerato un trattamento integrativo rispetto alla terapia tradizionale. La sua presentazione, il robot potrebbe superare quello che è il contributo umano? No, il robot è uno strumento e come tutti gli strumenti deve essere usato adeguatamente, è un ausilio al contributo umano ma non lo può sostituire.